Ciao a tutti ragazzi! Benvenuti in un nuovo episodio di Castle Crushers! Yeah proprio Curello! Dobbiamo uscire da sta prigione! Io direi di prendere una cosa di questa! L'ho centrato? Yes! Era qua a sinistra! Secondo me c'è qualcosina qua! Ma sei il territorio del gioco? Non sei qualcos' esse! No probabilmente! Per forza a sinistra? Si! No! Siamo liberi e distruggiamo tu! Siamo nella navicella spaziale di questi! Guarda il culo! Guarda quello! Guarda quello! Uccidi! Uccidi! Questi sono scarsi! Come la cacca! Però ce ne sono moltasini! Perché si vede il rosso? Perché c'è qualche allarme? Quanti cacchio! Quanti sono! Secondo me tutti quelli che c'è nella navicella stanno arrivando ora! Ti pare l'allarme tipo si riproducono all'istante? Queste sono cloni! Si! Sembrano dei cloni! No! Dei clown! Scassa sto coso! Quindi è inutile metterlo là! Wow! Il palestrato c'è! Questo mi sta... però è sul cesto quindi sta cagando! Ci ha visti? Non stava cagando questo mi sa di toast! Questo se ne va! Questo è incazzato! Ah ma era un prigioniero! Ah si? Oh! Abbiamo salvato... Abbiamo un'ora cazzo! Un'ora! Si! Un'ora! Un'ora di gameplay! Dobbiamo... 600 kg! Saranno libri comunque! No! E' talmente forte che poteva fare sì! 600 kg che cazzo è così piccolo! Cioè che cazzo è fatto? Di polvere di stella! Ah! Non lo so perché! 20-30! 20-30! 20-30! 26! Attento! Ho paura! Amico mio! Moriremo! Moriremo vero qui eh! Oh! Dai! Ah con calma! Razionalmente dobbiamo andarci! Razionalmente! C'è da cazzo di cane ce lo sto facendo! Salta! 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 Siamo arrivati! Ammazzali! Ah! C'è due volte? No! Abbiamo perso! Mi sa di sì! Corriii! Io pensavo che dovevamo metterci con lui! Prende quattro cose a casa e saltala! Non lo so! Andiamo! 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 Guarda dove ci stanno incastrando! Che merda! Perché non lo c'entro mai? Azione! Morite! Male! Vai! Via! Non prendere le volete! Veloce! Va così! Così! Salta! 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 Aspetta! Aspetta! Aspetta razionalmente! Cazzo! 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 Dai! Se ci vado io lo stesso! Ma ci vadoci! Dove imbazzare questi! Scemo! Oh! Oh! Cosa! Che cazzo dobbiamo fare? Venite! No! Porco! Cazzo! Ce l'ho fatta! Oh no! Grazie! Avevi sbagliato! No! Minchia si! Li possiamo prendere! Ma che cazzo sono? Dei lama! Dei lama! Dei tromelari! Dei tromelari! Dei tromelari! Ah! Sputano! Può essere che sono anche lama! No! Sono tromelari! Dei che scutano! No! Sono un cratino! You're stupid! Ti ho scutano! Grosse risate! Ma me ne ho scavalcenato! Ma no! Che bordello! Certi minuti mi confondono. E non so chi sono più io! Quindi colpisco a casacce e poi mi ritrovo All'interno dello schermo Ottimo Lempismo perfetto A casa dovete andare Spawnano a manetta A casa E' una granata quella Di quel modo Basta Magia Magia Bruciate le fiamme A posto Che cos'è che cos'è Una zebra E' una zebra Pua E' una voglia proprio Togli 5 con lo sputacchio E' la luna Con lo sputacchio Mi sento un cazzo ancora Non lo dire Con la sputacchio togli 5 Vero Proviamo a sputacci in faccia di vivere Nella realtà o nel gioco Ah quello fa più di 5 Fidati Togli 5 Troppo forti siamo oggi Cioè a cavallo di questi cammelli A cavallo donato Non guardate in bocca A cavallo di questi cammelli Siamo troppo forti Potremmo distruggere Siamo entrati Oh Cioè a cavallo di scena Che questa è grossa Ma il batuino mi fa male Mi ha usato la pozione Scusa Dico Io non lo so Se metto così Da lontano Gli butto il fuoco Non è meglio Ma io voglio il cantino Brucia Brucia Minnale Cioè vabbè di che sto morendo Mi avranno tolto tutta la vita Ma sono forti oh Uno Gli è volato via la testa Oh L'Oscar L'Oscar da bagno Ma era Davano soldi 16 16 16 Così a random 16 Perché Non 15 Ma 16 Ma un'arma nuova Non l'abbiamo più incocciata Forse perché Queste sono le più potenti per adesso Dico dico Quando ho giocato la solo C'è un'arma molto E perché costano un sacco Per certo No ma che ne trovavo Mentre giocavo Questa è che ora ci do la sciapola C'era tipo il pesce Il pesce Ah ma l'abbiamo incocciata all'inizio Se non lo sbaglio il pesce I nemici l'avevano E infatti Ma non l'abbiamo mai trovata Porca merda E' bellissimo Quando si scricchiano gli occhi Dopo che li colpisci Bellissimo Beh traduci E' bellissimo Quando si aprono gli occhi Quando li Si spalancano Si spalancano gli occhi Quando li colpiamo Beh si scricchiano Ti capisci Ti capisci E' intuuto E' intuuto Ma che cosa Oh ancora No ancora no Però mai Guardi Mi resta una sola pozione I guardini della sabbia Ma veramente Ecco tipo ora L'hai visto Attenzione Vabbè Te te l'hai usato Automaticamente Non lo sarò per adesso Almeno risparmi Quella tacchettina di vita No Che tipo Mi stai surclassando Per quanto riguarda i livelli Perché io sono un master In questo gioco Un master Sei una patata a novella Perché hai usato la cosa Eh vabbè Così ci vedo E pensi Bravo Dici tu Metti dietro scopo Oh Devo fare una partita di calcio Oh bello Te la ricordo Sto la cosa Devo fare una partita Si Wow Dai Non dare E' pallavolo Sai le regole Ecco Minchia Difficile Non è semplice Anche perché sai Che sto gioco La prospettiva inganna Minchia si inganna Poi in due è peggio Ah però un punto l'abbiamo fatto Che fai Vedi Schiaccia Ma posso mandarlo Schiaccia No No allora Non puoi Muro Muro Ci metteremo tre anni A fine Ma quanti punti dobbiamo fare Ma che ne so Mena 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 Vai 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 Ma possiamo menare loro Capito Devi menarli Appo dai Cosa Mena 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 loro Mena loro Vedi Ma loro tagliano il pallone con la sciavola però Tac Non ti rispondo 5 o 6 No Filina Mena 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 Ma dov'è Non capisco Mena loro Mena loro Sì Cosa Mena loro Mena Mena loro Schiaccia Si può schiacciare Sì Senta 7 Che arriva a 10 Penso di sì Sì Nel stesso punto Porca putt Mena è black Schiaccia Sì Sì Grazie C'è noto la mappa Ottimo Abbiamo venito Sì Baccia Il dito E se ne va In cielo Grazie Grazie Oh ma che cosa si è bloccato Che cosa si è bloccato No Perché Perché Avevo guadagnato un sacco di estolianza No Ma stiamo scherzando Chissà che magia fa Io direi che possiamo andarla a vedere Nel prossimo episodio Oddio Ma è qua No Qua è il coso alieno Ah Ok No Personaggio È solo che ricominciate da zero Eh no Non c'è Però Ma lo finiamo con questo Però io sono curioso Poi magari si vedrà in qualche altro episodio Vabbè dai Dai Siccome abbiamo finito l'episodio Vi ricordiamo sempre La tua vita manfoina La dico io La dico io Pollice in su Commentate Condividete Mettete like se vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Pollice in giù Aggiungetesi alle nostre pagine facebook E ci vediamo alla prossima nottata Ciao